Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono Danil, io sono Davide, io sono Luca e te che cazzo sei? No vabbè, sono Simone, ciao Raga il cameraman oggi è ubriaco Oggi è un po' ubriaco Allora ragazzi, siamo su una nuova bellissima challenge, allora cosa consisterà? Consisterà ad andare a Catabagnati Allora raga, Luca tramite un'applicazione farà delle domande e noi due dovremmo dare delle risposte Chi sbaglia dovremmo segnare le domande che abbiamo fatto sbagliate e ogni tre domande sbagliate Si arriva un secchio, si arriva un secchio d'acqua Si fa vedere, camera a me In... in... Secchio In addosso In addosso In addosso, l'italiano proprio la trovi In addosso In addosso Quindi ragazzi Come Danil? Eh? Come? In addosso In addosso Quindi raga, non ci resta che iniziare Quindi via! Luca, a te No, no Inizia Inizio io raga Inizia Come si chiama il celebre supereroe dei fumetti e del cinema? Uomo mosca, uomo scarafaggio, uomo falena, uomo ragno Uomo ragno Raga Giusta Inizia A me la secca ma è stato sbagliato Dovindato a una Davide Davide Wall Street è il centro del quartiere finanziario di che città? Los Angeles, Dallas, New York, Chicago Giusta Aaaaaah Anche Davide Una Danil Aglia Quale fuorilegge rubava ai ricchi per dare ai poveri insieme ai suoi allegri compari? Robin Hood Robin Hood Roger Hood Ronnie Hood Per me sono convinto che è la prima Sonny Hood Giusta Giusta Pensavo che era Sonny Hood Sonny F Sonny F Baby Davide Davide Alcune specie di quale tipo di animale si trovano solo in Madagascar? Lemore Elefante Tigre Canguro Giusto Ma che cosa Ma a me riescono le domande difficili a me Baglia un po' Che ero vi nude La storia di Larry Finn È ambientata lungo quale fiume? Misurri Rio Grande Colorado Mississippi Ripeti le domande? Ripeti le risposte? Misurri Rio Grande Colorado Mississippi Non la so La sparo Misurri Hai sbagliato Era Mississippi Prima Ronda Danilla Sento già l'acqua bollente In testa Ah si raga L'acqua è gelida Gelida Davide Quale tipo di Quale di questi popolari piante Da fiore Hanno spesso le spine? Narciso Rosa Orchidea Tulipano Infatti ho fatto una macchia Ho sbagliato raga No 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 Taglia taglia Danilla La Nuova Zelanda È stato il primo paese A concedere il voto a chi? Donne Polli Sicuramente polli Donne Polli Neonati O marziani Donne Donne Vabbè Che te pareva Noi peronipolli Agli erigieni E che ha fatto Il gelato di Irpir Davide Davide Com'era chiamata L'attuale Francia Dai Romani? Etruria Gallia Britannia Ibernia 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 È semplice Etruria Non ho capito la domanda Com'era chiamata L'attuale Francia Dai Romani? Etruria Gallia Britannia Iberia E' semplice E' semplice E' semplice Etruria Gallia Iberia Britannia Etruria No Etruria Vabbè non è Etruria Però Non ti guarda Non trovo Ma va E' sbagliata Ragaglia Un errore anche per Davide Stoppa un attimo il video Vai Tocca a me Tocca a me Danil Quale casa automobilistica fabbrica i modelli Golf e Polo? Volkswagen Honda, Peugeot, Fiat Volkswagen? E' giusta E' giusta E' giusta E' giusta E' Davide Sponsorizzare uno sbaglio Davide quale macchina è? Davide che cosa bisogna superare per produrre un bang sonico? 144 km orari 1440 km orari Ragazzi Velocità del suono Aspetta Questo è la luce Sbagliata Siamo a due Siamo a due Lo smuovere Posso fare Io No va A tre Permesso No due A due A due Usce Guarda perché ricominciate da capo gli errori No 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 Sì sì Io mi spazzo Oddio Non c'ho la chimica Non c'ho la chimica Dai Dai Allora Siamo qua Davide che fa la penitenza Senti già L'acqua d'asso Da notare che l'acqua è anche sporca Non è vero Vai sporcarmi No No Vuoi vedere? No C'è lì La luce Grazie 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 Fatti anche a meno dopo Adesso vedi che sbagli solo davide Posso farne anche a meno allora ragazzi dopo aver bagnato davide ed essere stato molto fiero spesso raga ci siamo Tratti di armi maglia perché hanno detto che è meglio Allora ricominciamo vai nuca Con Danil che è già un errore Ho già un errore io Danil Quanti episodi ci sono in ogni stagione di 24? 24, 25, 22, 23 Cosa? Quanti episodi ci sono in ogni stagione di 24? 24, 25, 22, 23 Non ho capito la domanda C'è questa serie Che ti chiamo 24? Quanti episodi ha? Che cazzo ne so Anch'io lo so come va di prima Vai dimmi le domande 24, 25, 22, 23 15 22, non lo so Coglio Sbagliato, 24 Vaffaculo Ti sto presuggerendo Non lo so 24, 24 Non lo so No, no, no Fra, fra Sit down Per per perdi la vita così Sit down Sit down Sto dicendo Aspetta Ok Aspetta Voglio Tocca Saluta Oh è fredda Fra Aspetta No No Calamina Adesso Vai tutto Aaaaa 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 Anzi Guarda dove si non prendi James Aaaaa Adesso Ma sto prendo Che mi fa Easy Senti di fresco No Ho detto a bagnare tanto No Non mi hai bagnato tanto Che cosa Ma qua c'è fuori il mar rosso, guarda! Quel foglio lì... Vabbè, Nati, che talmente è stato inutilizzabile Vabbè... Oh, ti reggio che è lato! E' dalla tua parte stavolta! Bravo, Luca! Sei uno scratto immaginario! Trocca... dai! Trocca a lui! Non c'è appunto a segnare, eh! Come si chiama il codice che troviamo sulle confezioni di molti prodotti del supermercato? Codice rosso, codice a barre, codice di avviamento postale, codice segreto Codice a barre... no, codice segreto Codice di avviamento postale Giusto! Nooo! Fra, guarda che so! Fra! Sei tre sbagliate? Ho capito pace! Quali dei seguenti elementi non è un vaso sanguigno? Vena, capillare, arteria, ghiandola Ghiandola? Eh beh! Eh beh! Eh beh! Quanto cazzo mi sento scienziato! Va, Davide! Vai! Dai che sono pronto! Chi canta notte prima degli esami? Antonello Venditti, Samuele Bersani, Luca Carboni, Marco Masini... Venditti... Marco Masini... Sbagliato! Era Antonello Venditti... Stavo pure suggerito! Un errore per Davide! Siamo a quattro! Raga, raga, notate che c'è Luca che si... Ma hai bagnato con te i soffi... Fa sto chi... Fa sto chi... Dai 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 dai! È già segnato! È già segnato! La personalità è cosa che è alta! Come si chiama il celebre roditore creato da Walt Disney? Topolino, Topoluccio, Topolone, Topoleppo! Ma che cazzo gli avanti sono? Scusi, regia! Giusto! Giusto, meno male, meno quello! Non ti pareva! Puttana trovi la domanda! Poi? Puttana domanda! Davide! Come si chiama il gancio posto all'estremità di una canna da pesca? Amo piocina, mulinello... Flucina! Amo! Amo, amo, amo! Raga, scusate, ma non sono un pescatore! Giusto! Giusto! Da domani dovrei pescare! Esatto! Da domani sul canale Pesca con Dado! Apriamo un nuovo canale Pesca con noi! Danil! Diego Armando Maradona ha collezionato 21 presenti... Fermo! La mia ragazza segue la moda! Io seguo i soldi e ladro! Vai! Diego Armando Maradona ha collezionato 91 presenti con la nazionale di quale paese? Azerbaijan, Australia, Angola, Argentina... Che minchia Armando Maradona è del Gana! Ehi minchia Armando Maradona è del Gana! Ehi minchia Armando Maradona è del Gana! Giuseppe Bottai! Italo Balbo, Luciano Serra! Raga mi bagno! Grazie! Grazie! Grazie Armandona! È più... Cos'è Galeazzo Ciano? Scusi di te! Provo! Galeazzo Ciano! Gli tavolo Balbo... Ho sbagliato! Ho sbagliato! Sbagliato! Siamo a due! Davide di nuovo! Concentrato Davide! No! Benvenuti! Tanto te la faccio pagare io! No, no! Veloce! Veloce! Ah no! Rego Ceno! No, veloce! 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 Vado! Vado! Raga, 1, 2, 3! 3! Ragazzi siamo ragazzi alla fine della nostra challenge Luca ci fa le ultime due domande Dopo col secchiello bagnato Uno ce lo lancia raga Quindi dovremmo stare io e Davide Che cazzo fai? Dobbiamo stare in rapacchia e uno lancia giù il secchiello Quindi Luca vai Dovanda a me A chi? Scusa A me Vai La capitale della Germania è Vienna Monaco, Berlino Cuba Non è in Germania Sì sicuro Sì sicuro è contratto bene le cartine Sì è in Ghana È Berlino Raga Berlino Berlino Capitale della Russia Come il tipo della casa di carta La casa dei papel Davide Che se è sbagliato è chiaro in pasta Quale stato degli USA USA Unito a Anna Forma il nome di un continente Un po' di fantasia Montana Mississippi Missouri Minnesota Tu dici Cinque gusti San Montana Anna Montana Ragazzi Siamo giunti alla Conclusione Conclusione La cosa finale Luca Bella raga Divertimento Luca Luca Veloce Oh state vicini in mezzo Che se Luca Veloce Oh raga aspettate un attimo Vi dico una cosa Se vi cade il secchiaro Non è colpa di Luca No Se vi cade il secchiaro Saremo tutti Vai Vado Uno Due Tre Che bello Second Raga Mi ha chiesto pure Se mi sono bagnato Ragazzi Siamo arrivati Alla conclusione Di questa Mega challenge Raga Raga Siamo Infreddoliti Infreddoliti E siamo Incazzate Sto stronzo qua Ho lanciato il secchiello Oh Oh doppio Handshot Non riesco neanche a zoomarti Talmente bigolo sei Quindi ragazzi Terminiamo qua questa challenge Speriamo che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Se vi è piaciuto Taggiate mi piace Commentate e iscrivetevi Passate la nostra pagina Instagram Vi lasceremo il link in descrizione Diceci cosa ne pensate Della nostra nuova Outro Abbiamo messo anche La presentazione del canale Il trailer del canale Sul computer Se Non so se si può vedere Anche sul computer Solo sul telefono Però comunque guardatela Al contrario Comunque dovrebbe andare su tutti e due Quindi se vi è piaciuto Iscrivetevi Commentate Mi piace E noi ci vediamo Al prossimo video Bella a tutti ragazzi Models Poppin' bottles Models 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 Models